Ciao, benvenuto! Perché l'abbiamo conciato da Igor di Frankenstein Junior, scusate? Eeeecco, via, un bel ginocchio coi baffi, guarda! Tu stai attraversando un campo e vieni schiacciato da una metetrella. Questa è solo la gamba! Assomiglia a uno della famiglia Bush. Da giovane ero identico a D.B.G.S. Ma io suono fare... Persona di buon umore! Peccato che adesso gli infiliamo un tubo in gola! Le presento Marina, lei è la star di questo spot pubblicitario che andremo a realizzare. Tu sarai lo sbaffatore, con due F. Lo sbaffatore in realtà è un tritarifiuti da lavandino. Ma iniziamo dal Clay. Sbaffo tutto col baffo, sbaffatrice Sijam! Sbaffo tutto col baffo, sba... sbaffo tutto col baffo, sbaffatrice Sijam! Quindi tu mi rappresenti la sbaffatrice, quindi sei uno strumento tecnologico in versione umana. Sbaffo tutto col baffo, sbaffatrice Sijam! Ah, è bellissimo! Adesso con la roba in bocca. Sbaffo tutto col baffo, sbaffatrice Sijam! Bravissimo! Spendido! Bravo! Sei fuori dalla porta. Mi fai una prova di campanello, per piacere? No, campanello è un po' più moderno. Un po' più moderno. Ancora più moderno. Brrrrrrrrrrr! Brrrrrr! Eccomi, signora! Sono lo sbaffatore Sijam! Eccomi, sono lo sbaffatore Sijam! Ahahah, cosa fa? Uehh! Atta-raa! Atta-raam! Prima il mio lavandino era sempre otturato e la cucina era infestata da odori cattivi, ma da quando uso la mia sbaffatrice Sijam? Beh, tutto va di sciocciata in topi. Sbaffatrice Sijan, il discorgante naturale con un baffo spaziale. Vai adesso! Baffo tutto col baffo! Sbaffatrice Sijan! Buonissimo! Magari mentre sbaffi cerca di farmi un verso da sbaffatore. Gnam gnam gnam! La faccia di parola che fa gnam gnam. Mamma mia! Questo potrebbe essere il vostro nonno, vi rendete conto? Prego! Ma da quando ho la mia sbaffatrice spaziale Sijan, tutto va liscio e senza idomeno. La battuta! La battuta! Baffo tutto col baffo! Va, Patrice, si già! Bravissimo! Bravissimo! Bravo! Lo amo! Ti amo, Babbo Natale! Fermi tutti! Fermi tutti! Fermi tutti! Questa è una scherza di... Italia 1!